Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco Fiumanò, vicepresidente dell'American Cars Club Romagna Boys e con questo video volevo fare un ringraziamento, un ringraziamento particolare a tutte le persone che stanno lavorando per darci la possibilità di uscire il prima possibile da questa situazione è una situazione surreale, tutti quanti sappiamo come stanno andando le cose, i media ci aggiornano in continuazione, ci sono pareri discordanti su come viene gestita questa situazione non è facile per noi subirla, non è facile neanche per loro prendere decisioni importanti io con questo video voglio salutare e dare un saluto caloroso a due grandi amici che hanno la mia stessa passione che sono Andrea e Fabio di Roma, Andrea perché è un dottore e Fabio perché fa parte della protezione civile nomino loro semplicemente perché so la loro attività, sicuramente tanti di voi fanno altre attività utili a questa esigenza, io nel mio piccolo do alla mia comunità la possibilità di usufruire della mia attività con piccoli servizi che faccio, questo era un semplice video per ringraziare tutti nella speranza di rivedervi e riabbracciarvi realmente e fisicamente tutti, un saluto, ciao